Area di crisi e ITR è l'una legata all'altra. Se venisse approvata l'area di crisi, gli ex 800 dipendenti ITR, gli ex lavoratori della GAM, gli ex della Dirisio, ma non solo loro, potrebbero rientrare in un piano di sostegno economico con strumenti eccezionali, quali cassa integrazione e mobilità non più limitati, ma estendibili. In sostanza non ci sarebbe più l'attuale rigido limite previsto dalla legge Fornero, ma gli ammortizzatori sociali potrebbero durare molto di più. Tutto dipende dall'approvazione dell'area di crisi Boiano-Venafro, di cui si discute nel primo incontro romano al Ministero dello Sviluppo Economico con i rappresentanti del governo, il governatore Frattura e i sindacati. Nel secondo incontro, quello del 23, si parlerà solo di ITR e della possibilità di proroga della CIGS. Ci sarà un incontro con gli assessori, con i vari organi che saranno seduti al tavolo per quanto riguarda l'attuazione dell'area di crisi. Sono stati convocati dal Ministero dello Sviluppo Economico proprio per dare seguito al discorso dell'area di crisi. Il 23 invece siamo stati convocati come parti sociali con Castanon, il burocrata del Ministero dello Sviluppo Economico e con la parte commissariale, con i tre commissari, per discutere dei 247 dipendenti che sono ancora legati alla cassa integrazione, già che è scaduto il 75esimo giorno di mancato accordo. Il mancato accordo è avvenuto presso il Ministero del Lavoro il 13 febbraio e discutere se ci sono ancora possibilità in questo periodo che si arriverà al 3 aprile per la scadenza della cassa integrazione, se ci sono possibilità di rivedere ancora, prolungare ancora la cassa integrazione qualora ci fosse qualche, pare che ci siano tre proposte e se queste tre proposte potranno dar seguito a qualche altro periodo di prolungamento di cassa integrazione straordinaria.